Buonasera ragazzi e benvenuti in un nuovo video gameplay pronostico PS4 PS 2018, ultimo pronostico gameplay dell'anno 2017, ultima giornata dell'andata di campionato 2017-2018 Inter-Lazio tra la partita di sabato 30 alle ore 18 e dunque noto inverno devo togliere i miei tombi sui momentari prima che poi spuntano fuori 5-7 minuti campioni ok allora schema di gioco, schema di gioco e le scelte sono quelle sono Andanovic, Ranocchia, Skriner, Giocanselo, Sant'Ompro di metà sinistra, Cagliardini, Vessino, Borcavalero, Candreva, Predici, Cagli, D'Ambrosio è infortunato ancora, Milanda pure, a sinistra non si sa se giocherà Sant'Ono o Nagatomo, ma secondo la previsione potrebbe essere più Sant'Ono o Nagatomo visto che ha giocato effettivamente 120 minuti giusto quando era ieri già, era ieri sì, divisa così, possiamo vincere, vedete questo pronostico di Inter-Lazio secondo me sarà molto difficile vincerla questa perché a meno che non ci sia una svolta, non lo so qualunque cosa serve per smuoversi, serve una vittoria per uscire da questa crisi perché prima o poi devono uscire da questa crisi. dovessimo perdere anche questa, i ragazzi non so più che dire, quindi così, non lo so, come potremmo fare, quindi così, perché non so neanche dire perché magari un pareggio potrebbe essere una mezza vittoria o una mezza sconfitta, io mi auguro di non perdere e poi se si vince meglio ancora, perché alla fine Lazio è in forma, è la nostra concorrente per la Champions, siamo praticamente obbligati a vincere questa partita, siamo in casa, cioè più di così, dobbiamo rialzarci, dobbiamo rialzarci e muoverci a fare tre punti per continuare, comunque. Eccoci qua, Inter-Lazio, si comincia, speriamo in bene di una bella vittoria, intanto quando vi regalo un po' di gol a Pes, stavo quasi azzeccando per lo nostro qui di Milani-Inter, però non è finito il rigore purtroppo. Attenzione che la Lazio si viene avanti, attenzione, bene, si chiude, 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 dai Ardini, vai. Perisic, fammi incazzare pure oggi, eccolo lì, si fa fregare la palla. Oh mio Dio. Ottio Caissé, fuori gioco. Insomma, non c'è immobile, è titolare, è messa la domatica da Pes, non l'ho neanche visto, sinceramente. L'anno scorso mi ricordo che abbiamo vinto 2-0, o 3-0, forse 3-0 addirittura, che c'era, era appena arrivato Pioli, stavano andando discretamente bene, giusto prima di Natale. Icari, attenzione, si gira, chiuso da tre difensori, Vessino, 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 no, passiamo dietro ai Gagliardini. Non potevo tirare, ma... Iniziamo nel triangolo, uh, Icari, è sempre in mezzo a 3, però, ragazzi, vuol Cavallero, ancora. Cerchiamo di smuoverci, Vessino, Icari, in fuorigioco, no, si gira, attenzione, mi piacerebbe che è madonna per girarsi. Scrinio, di testa, Gagliardini, dai, 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 voglio vincere, almeno a PES. Icari, dai, proviamoci. Ho tirato troppo piano io. Attenzione, a Caicedo, conosco chi sia, Luis Alberto, ma ce ne sono i titolari, Luis, Cansevo, vai, su. Proviamo ad andare in avanti, Icari tiene palla, uh, palla, uh, ritardissimo questo, super ritardo. Guarda lì, peccato perché poteva andare solo davanti al portiere, più o meno. Candreva, facciamo, passiamo, passiamo, passiamo corto, dai, non so se so mai. Di nuovo, sì, Candreva in mezzo. Valero non ci arriva, perché non c'è uno un po' più alto in mezzo? Io, per un'occhio. Attenzione. Candreva ancora? Eh, sì, ciao, ah. Occhio non c'è più non c'è troppo perché qua ci sono le preterie. Oddiro, falciato. Falciato non so chi. Attenzione a Luiz, a Lulic. Bene, bene. Gagliardini spazza via. C'è i cazzi. Per Borcavalero Ma che c'è Perisic che è partito Sì 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 Perisic Perisic Finalmente 1-0 Perisic Oh Ma da quanto tempo non facevo gol Da quanto tempo non facevo gol a Pes Borcavalero Per Perisic Che si smarca Fantastico Avevo pure di sbagliare Boom Speriamo Lo faccio veramente 1-0 Inter Bene Quanto tempo non segnavo nei tempi regolamentari Attenzione Vai Santone che tu Guarda lì Skriniar Qui deve Attenzione Il tiro dalla distanza Pah Oddio che sofferenza Calmi Troppo calmo Ok Dalero Dai Ucchia parolo Per Caicedo Chiudi Si può distrarre un altro qua No Skriniar si ingazza Giustamente 1-0 Inter Ma Si soffre Si no Fuori fuori Via 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 44esimo Vediamo se riusciamo a fare secondo Vediamo se riusciamo a fare secondo Si Gaiardini Ancora Perisic Gaiardini però Troppo marcato Perisic In mezzo Per Gaiardini Vedete No No 1-0 Finito il primo tempo Poi di Perisic 36esimo Sta andando abbastanza bene 4-10 Non piegare la porta Lazio 3 Ma insomma Sta andando meglio del solito Però Però Insomma Diamo che ho rischiato Ho rischiato Dovranno solo stare attenti E non concedere un secondo gol Entra Filippo Anderson A posto di Marusic Attenzione Bravo C'è da soffrire adesso C'è da soffrire Screen Via Bravo Vecino Attenzione Viene falciato Impunemente Proprio E' qua il cartellino Non l'ha munito Non l'ha Se non è giallo questo Non lo so Abitraggi strani di PES Ogni tanto Abitra strano Cancelo Dai Candreo C'è Cancelo che è partito Forse No Ho sbagliato io Prendiamo il pressing No Che fa Via via Spazza spazza Che mi viene 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 Io non mi fido Passo un minimo errore Bravo Ranocchia Grande chiusura Eh Però siamo sempre lì Questi lanci Sembra le stesse cose Fanno C'è Valero Vecino Vai col contropiede Vai col contropiede Andreva 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 Dai corri dritto Andreva Icardi Icardi Passiamo dietro No Andreva Prendiamo il prossimo In mezzo Non so se c'è Peric C'è qualcun altro Sì Fallo di Peric Vabbè Vabbè Fallo di Peric Sessantunesimo Facciamo un cambio Il Cancelo è morto però Mettere Santono a destra E Nagatomo a sinistra Dai Giusto perché Cancelo Guarda lì Nagatomo Vedo l'informa E possiamo Procedere Cambio Esce Cancelo Lo stanco Ed entra Nagatomo Che minuto siamo qua Sessantunesimo Eh Eh Che la soffrire ancora Che la soffrire ancora Dai bravo Scrinia Peccato perché Devo ripartire Attenzione Andremo Andremo All'ex Grande ex Sì Benissimo Santono Occhio Peric Super Portiere Ed è 2-0 Peric Stupendo Stupendo Fantastico Peric Così Nella realtà In questo momento Beh Ho fatto 2-0 Praticamente quasi uguali Che bello Due gol Mi faceva da una vita Bello Bella Grande chiusura Di Santon E peric C'è smarcato Veramente bene Difesa Portiere Uccita un po' Veamuzzo Bene 2-0 Peric Avanti così Avanti così Te la stiamo chiudendo Sessantaseiesimo Uh Che bello Che bello Stasera sono Appena più concentrato A parte che ci sono Un po' più di spazi Quello è anche da dire Perché Sono riuscito a trovare No 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 Ma che gol Di merda Felipe Anderson Accorce la distanza Ma cosa è un po' stupido Questo Vuoi vedere Mica l'avevo presa Ah Nagatomo Mi voleva fatto sfuggire Vaffan bagno Manco il tempo Di godersi 2-0 Vabbè dai Non è successo niente Settantesimo Facciamo finta Non è successo niente Perché qua Borca Valera Attenzione Per Icardi 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 La botta dalla distanza È difficile Difficile Però Ci ho provato Ci ho provato Eh peccato perché Mi si è fatto subito Il terzo Era un po' più tranquillo Non è mai Ma con i suoi piedi È Abbastanza Sbilenco Tanto due esimi Mi dobbiamo fare un cambietto Un cambietto Chi metto Non lo so Mettiamo Eder Mettiamo Eder A prossimo Di Candreva Giusto per Seconda punta Ok Così almeno Ne usiamo un po' di freschezza Davanti Esce Candreva Entra Eder Manca Scramo Potrebbe essere lui Non vedete Va bene Va bene Va bene Va bene Il tantaduesimo Si soffre qua Con la Lazio Ovviamente Partita non semplice Attenzione Oh 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 Dai Parolo Parolo Liardini chiude Ma Parolo Grazie Dai Dai Quanto manca Stantaseiesimo Attenzione No Potevo Mettere in fuori gioco Bravo Ranocchia Chiude Bravo Via 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 Pazzo come viene Come viene Ma Non possiamo tenere il pallone Quando si lo frenano subito Entra Palombia Posso dire lui Si ha aberto Tanto tesimo Bravo Nagatomo Stavolta è fatto bene Attenzione C'è Perisic Che è partito Perisic È partito No Ho sbagliato io Eh L'ho messa troppo difficile Questa Attenzione Bravo Gagliardini Nagatomo Perisic Gagliardini sta partendo E poi proviamoci Bella L'apertura Crossi In mezzo Non c'era Nessuno Tanto cinquesimo Attenzione Ah no 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 Non scherzare neanche Non scherzare neanche Chiude bene ancora la nocchia Grande Adè Desino Eder 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 Proviamoci Ma che merda Mamma mia Eh Ho schiacciato male io Sai Potevo andare anche un po' avanti Chiudilo Chiudilo Bravo Porca valero Oh Fallo Fallo Minchia Chiude Skriniar Chirurgicamente Rischiosamente Ma E finisce qui 2-1 Inter Doppietta di Perisic Speriamo finisca così Chi lo sa Chi lo sa Ci vediamo allora Sabato Dopo Il partito Inter Lazio L'ultima partita dell'anno Siamo in bene Di il mio post pronostico Iscrivetevi al canale Oggi Devo andare 1500 Entro in 32 Ciao